Dolori di origine posturale. Scopri come evitarli. Molto spesso, infatti, i miei pazienti mi chiedono Qual è la miglior postura da mantenere per evitare dolori? Ma in realtà questa domanda apre un ulteriore quesito. Siamo sicuri che esiste una postura corretta? La risposta è sempre la stessa. No, 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 assolutamente no. Sì, è vero, esistono delle posture che permettono di mantenere l'articolazione in una posizione in cui vengono sollecitate il meno possibile. Ma la cosa fondamentale non è cercare di mantenere la postura corretta a lungo, cosa che sarebbe impossibile da fare. Bensì evitare di rimanere a lungo nella stessa posizione. Sono quattro ore che sono qui alla scrivania, non ce la faccio proprio più. Questo perché rimanendo sempre nella stessa posizione si crea una pressione sempre sui stessi punti. Questa pressione non permette una libera circolazione del sangue. E come sappiamo, il sangue porta ossigeno e l'ossigeno evita. Immagina di creare con il dito una pressione sulla tua pelle. Dapprima si crea pallore, ma se la pressione viene mantenuta a lungo, anche se è un carico basso, poi si creerà dolore e infine lesione. Un esempio ben più grave sono le piaghe da decubito. E che cos'è che ci permette di aumentare il flusso sanguigno e quindi l'ossigenazione dei tessuti? Il movimento! Quindi, ricapitolando, abbiamo visto che il movimento aumenta il flusso sanguigno. Il sangue porta ossigeno e che l'ossigeno evita. Possiamo allora concludere che il movimento evita. Non cercare allora di mantenere una postura corretta a lungo. Cerca di fare delle pause dove inserisci dei piccoli esercizi che ti mostro adesso. Gli esercizi e movimenti che vi mostro in questo video non sono dei veri e propri allenamenti, ma sono ottimi per prendersi delle piccole pause a casa o durante il lavoro per poter riossigenare i tessuti e dare il respiro alle articolazioni. Per la parte lombare e per la schiena vi consiglio le inclinazioni del busto. La posizione di partenza è una posizione retta con una leggera contrazione dell'addome. Vi consiglio 10 ripetizioni da un lato e 10 ripetizioni dal lato opposto. Eseguiamo poi delle rotazioni del busto. La posizione di partenza è sempre una posizione retta con una leggera contrazione dell'addome. Le mani e le braccia all'altezza delle spalle. Eseguiamo delle rotazioni sia in un senso che nel senso opposto. Anche in questo caso vi consiglio almeno una decina di movimenti. Con la testa seguiamo il movimento. Infine per la parte lombare eseguiamo delle estensioni lombarie. Per eseguire l'esercizio mettiamo le mani nella parte bassa della nostra schiena. A questo punto l'esercizio consiste nell'inarcare indietro la schiena. Facendolo andiamo un pochino in avanti con il bacino e indietro con le spalle. Lo sguardo può rimanere verso l'avanti o 45 gradi verso il soffitto. Evitiamo di andare indietro anche con lo sguardo, perché il movimento che ci interessa deve essere a livello lombare e non a livello cervicale. Eseguite il movimento per 10 o 12 ripetizioni, cercando ogni volta di andare sempre più indietro con le spalle. Se l'esercizio vi sembra difficoltuoso e ha una sensazione di blocco, l'esercizio va più che bene. Se invece avete dei dolori, consultate il parere del vostro fisioterapista. Per il collo invece vi consiglio delle rotazioni, sia in un senso che nell'altro, ricercando il massimo arco di movimento senza avere dolori. Delle inclinazioni. Due posizioni statiche di allungamento da mantenere almeno 40 secondi, che sono inclinazione con una leggera sovrappressione della mano opposta. Mantenere la spalla dal lato dell'inclinazione molto rilassata e tenere questa posizione dai 30-40 secondi. Eseguirla sia in un senso che nell'altro. E molto efficace per la parte cervicale è rotazione avvicinando il mento alla spalla. Sentirete una tensione in questa zona del collo del trapezio. Anche in questo caso mantenere la posizione dai 30-40 secondi. Infine, sempre per il collo, un esercizio di retrazione del capo. Avete presente il movimento che faceva Totò con la testa, che andava avanti e indietro? Quello che interessa a noi è solo la retrazione, quindi solo il movimento verso indietro. La vita moderna ci ha infatti portato ad essere molto chiusi in avanti, sia con le spalle che con il capo. L'obiettivo di questo esercizio è proprio quello di ritornare in una posizione corretta, portando il capo all'indietro. Per eseguirlo correttamente, immaginate la testa che si muova su un binario parallelo al suolo. Sguardo rivolto sempre in avanti. Se volete vi potete aiutare con un dito posizionato sotto il mento, non tanto per spingere all'indietro, ma per darvi la sensazione di movimento. Guardando in avanti, ritrarre il capo all'indietro. Anche in questo caso, movimento lento, ricercando una bella posizione eretta, contrazione dell'addome, andare indietro con il capo. Quest'ultimo è un ottimo esercizio a fare sia in ufficio, volendo anche stando seduti davanti al computer, che alla guida. Siamo fermi, stiamo guidando da un po', siamo in semato rosso, ci possiamo mettere a fare questo esercizio per dare un po' di sollievo all'articolazione. Vi ringrazio per la visione, spero di avervi dato qualche indicazione utile. Continuate a seguirmi sulla pagina Instagram, sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, cercando FisioFix e Fisioterapia, dove troverete tante indicazioni, consigli del mondo della fisioterapia, dello sport e del benessere. E se avete dubbi o domande, contattatemi senza problemi. Grazie. Grazie. Grazie.